La lunga attesa sta per terminare, rinvio legato, lo ricordiamo, alla Caso Siena il club toscano è stato escluso dai play-off, causa penalizzazione di quattro punti che ha fatto scivolare la società toscana all'undicesimo posto del Girone B. Ad approfittarne la recanatesa che sale in decima posizione, ultima utile per la disputa degli spareggi, a cui partecipano ben 28 formazioni. Si comincia domani, giovedì 11 maggio, con i play-off di Girone. In campo le 18 squadre, classificate dal quinto al decimo posto di ogni raggruppamento. Nel Girone A si giocheranno Padova Pergolettese, Virtus Verona Novara e Renate Arzignano. Nel Girone B Gubbio Recanatese, Pontedera Rimini, Ancona Lucchese. Nel Girone C Cerignola Juvestabia, Picerno Potenza e Monopoli Latina. In caso di parità al termine dei 90 regolamentari, proseguirà la sua corsa alla squadra meglio classificata al termine della stagione regolare, ovvero chi gioca in casa. Nel secondo turno dei play-off di Girone, in programma domenica 14 maggio, alle nove vincitrici delle sfide del primo turno, si aggiungono le quarte classificate di ciascun Girone, Foggia, Prosesto e Carrarese. Le partecipanti vengono ordinate in base al posizionamento nella stagione regolare e la migliore classificata ospita in casa, in gara unica, la peggiore classificata. In caso di parità al termine dei 90 regolamentari, accede alla fase successiva la squadra meglio posizionata in regular season e dunque, in questo caso, chi gioca davanti al pubblico amico. Veniamo alla fase nazionale. In campo, tra le altre, anche il Pescara. In totale dieci squadre che si affrontano in doppio turno. Al primo, andata il 18 maggio, al ritorno il 22, prenderanno parte le sei vincenti della fase del Girone, la vincitrice della Coppa Italia di Serie C, ovvero il Vicenza, e le terze classificate di ogni Girone, Lecco, Entella e Pescara. Delle tre, il team Ligure è quello che ha totalizzato più punti, 79. Le dieci squadre si sfideranno in cinque partite, con la formula andata e ritorno. Le teste di serie saranno le terze classificate di ogni Girone. Il Vicenza, che si è giudicato la Coppa Italia di Serie C, è la meglio classificata tra le sei vincenti della fase del Girone. Le teste di serie non si sfideranno tra loro. Gli accoppiamenti saranno decisi tramite sorteggio. Le teste di serie giocheranno la gara di ritorno davanti al pubblico amico e, in caso di parità complessiva, dopo andata e ritorno, non sono previsti i supplementari, avranno diritto di accedere al secondo turno dei play-off nazionali, ovvero i quarti, nei quali entreranno in scena le tre seconde Pordenone, Ceslena e Crotone. In caso di qualificazione, il Pescara riuscirebbe a conservare lo status di testa di serie solo nel caso in cui, agli ottavi, venisse eliminata l'Entella, che al termine della stagione regolare, lo ricordiamo, è stata la migliore terza dei tre gironi, con 79 punti.